Dalla medicina all'arte per gli interventi di restauro conservativo. Grazie alla tecnologia laser, opere d'arte secolari del Vaticano torneranno a risplendere come in origine. 500 trasculture in marmo, busti, fontane e statue verranno trattate con il laser made in Italy di Quanta System, finora impiegato in ambito medico per la rimozione dei calcoli frenali, un bombardamento di luce pulsata che nelle mani pazienti dei restauratori agisce in maniera precisa e selettiva ripulendo le opere, attraverso la demolizione delle incrostazioni organiche e inorganiche che si sono depositate nei secoli senza l'utilizzo di microtrapani, frese o disolventi chimici.